L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Sabia, dopo l'espulsione per il voto di sfiducia al governo Draghi. L'infinita vertenza delle terme luigiane. Questa mattina un incontro in regione per i sindacati è necessario tutelare gli oltre 200 lavoratori. Tre calabressi sono stati arrestati a Bologna, avevano progettato una rapina facendo irruzioni in un'abitazione. Si spacciavano per poliziotti e finanzieri. Il super bonus 110% è un'opportunità da cogliere al volo Aurora Innovation e A0CO2. in campo con professionalità ed esperienza. Buonasera, edizione serale per quanto riguarda il nostro telegiornale che si apre ancora una volta con la politica. Dunque Nicola Irto dice sì ed è disponibile ad essere il candidato del centro-sinistra all'esponente del PD. Contestualmente invita De Magistris a far fronte comune contro la destra. Carlo Tanzi invece dice di no. A 50 giorni dal voto alla Regione, salvo nuovi slittamenti, comincia ad animarsi la campagna elettorale. Al momento l'unica candidatura ufficiale è quella dell'attuale sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ha trovato l'accordo con Carlo Tanzi nelle scorse settimane, il quale ha fatto un passo di lato. A ruota è arrivata la disponibilità di Nicola Irto, che sta trovando il gradimento di molti nel centro-sinistra. E lo stesso Irto, memore dell'insuccesso della passata consultazione, quando il centro-sinistra propose Pippo Callipo causando una lacerazione interna, sembra voler sposare le parole di Jasmine Cristallo del Movimento delle Sardine, che nelle scorse settimane ha chiesto un passo indietro a tutti, nella speranza di far fronte unico contro il centro-destra, che appare al momento in vantaggio nei sondaggi. E così Nicola Irto immagina di poter corteggiare De Magistris, al quale ha lanciato già una serie di inviti per coagulare tutte le energie contro Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. A stretto giro però è arrivata la risposta di Carlo Tanzi, che con un laconico non se ne fa niente, azzera al momento tutte le speranze di poter creare un fronte massiccio contro l'avanzare del centro-destra. Mi stanno chiedendo, dopo le dichiarazioni del candidato del PD Nicola Irto, se fossi disponibile a fare un passo indietro e ritirare la mia, la nostra candidatura. Sono e siamo motivatissimi, non è possibile, nemmeno pensabile. Abbiamo già fatto cento passi e non ci fermeremo fino alla vittoria. Così Luigi De Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, replica all'invito rivolto dal candidato del Partito Democratico Nicola Irto a razzerare tutte le autocandidature fin qui emerse nell'ambito del mondo del centro-sinistra per trovare una soluzione unitaria e definitiva. Roberto Chiuto, al momento, è il candidato del centro-destra. Il deputato azzurro ha già detto che se toccherà a lui, lascerà il posto di capogruppo alla Camera. Intanto, dopo il voto di fiducia al governo Draghi e Montecitorio, si profilano altre espulsioni nel Movimento 5 Stelle. Vediamo. Roberto Chiuto è sulla corsia di sorpasso, ma alla sua destra non c'è nessuno, nel senso che quello del deputato di Forza Italia, al momento, è l'unico nome che il centro-destra indica ormai da qualche giorno per la corsa alla poltrona di governatore della Calabria. Non è però da escludere qualche colpo di scena dell'ultima ora, visto che al momento il suo collega di partito Gianluca Gallo si è esposto apertamente alla sua candidatura, mentre Nino Spirli, attuale governatore facente funzioni della regione ed esponente della Lega, ha dato l'ok se sarà lui l'unico candidato. Una investitura che diverrà ancora più forte nel momento in cui arriverà anche il via libera da parte di tutta la deputazione calabrese di centro-destra. Roberto Chiuto, intanto, con un tweet, ha comunicato che a breve lascerà il posto di capogruppo di Forza Italia alla Camera, lasciato vacante dopo la nomina a ministro della Gelmini e che correrà per la sua regione una scelta di cuore. Intanto si è votato la fiducia a Palazzo Madama al governatore Draghi e anche qui il fronte dei no non è mancato con 56 deputati contrari. Tra questi anche 16 del Movimento 5 Stelle, che con ogni probabilità subiranno la stessa sorte dei loro colleghi senatori, ovvero l'espulsione dal Movimento. Tra questi anche i calabresi Francesco Forciniti e Francesco Sapia. Esco dal Movimento a testa alta ritenendo di non aver tradito i principi e i valori democratici, sicuro di averli difeso fino alla fine, soprattutto nella mia Calabria, sempre vittima dell'andrangheta, della corruzione e della paura di cambiare. Lo afferma il deputato Francesco Sapia, formalmente espulso dal Movimento 5 Stelle per aver votato contro la fiducia all'esecutivo Draghi. Al di là dei generici riferimenti all'occupazione femminile, alla legalità e alla sicurezza, nell'illustrare il suo indirizzo di governo, osserve il parlamentare, Draghi ha eluso il problema della distanza culturale, economica e sociale dell'Italia meridionale da quella settentrionale, causata da ingiustizie e diseguaglianze colpevolmente risolte. Nel Mezzogiorno c'è poi una questione ancora più pesante, cioè quella calabrese, che non può essere trascurata, o peggio, ignorata o ridotta a commissariamenti inutili. Perciò, prosegue Sapia, ho assunto la decisione di tutta politica, intanto per coerenza con le battaglie condotte alla luce del sole, con la bandiera del Movimento 5 Stelle, con il Sud, che diede una valanga di voti alle politiche del 2018. Allora, all'infinita avvertenza delle Terme Luigiane, questa mattina c'è stato un sit-in davanti alla cittadella regionale. I sindacati chiedono di tutelare gli oltre 200 lavoratori. Vediamo il servizio. Si è spostata a Catanzaro la protesta dei lavoratori delle Terme Luigiane, che vivono un momento di difficoltà, dovuto allo scontro istituzionale tra i comuni di Ocquappese e Guardia Piemontese, che non riconoscono più la figura della società Sateca come gestore dell'impianto, visto che la concessione è scaduta. I lavoratori sono stati ricevuti dal dirigente regionale Cosentino, mentre ai sindaci delle due città proprietarie delle sorgenti termali, i lavoratori contestano l'assenza di un nuovo bando per la concessione della struttura. C'è una concessione perpetua che durava da 80 anni, che è arrivata a un certo momento e è finita, nel 2016, se non vado errato, è finita. Da quando le acque sono diventate, come dire, sono diventate concessionarie i comuni. Ora, da quel momento in poi, i sindaci, e questo è culminato nell'accordo del 2019, hanno preso degli impegni per un bando, per una formalizzazione di un bando che individuasse il nuovo soggetto. Non è successo, sono anni che aspettiamo questo bando, anche se viene sbandierato, lì c'è, c'è, ma non c'è, in effetti, e quindi noi stiamo andando avanti a rinnovi, che non esistono più, cioè non si può ogni anno. Noi abbiamo un percorso sottoscritto da loro, dal prefetto. C'è la garanzia che questo, questa proroga, chiamiamola proroga, questo rinnovo, esiste fino a quando loro non formalizzano il bando. Ora la palla passa alla Regione che dovrà determinare l'Iter per una nuova concessione. E apriamo la ricca pagina per quanto riguarda la pandemia. È partita Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, la campagna vaccinale rivolta ai cittadini della città metropolitana di Reggio Calabria, nonché tutti i calabresi, a seguito della convenzione sottoscritta dal Consiglio regionale dell'ASP Reggina. La sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella ospiterà l'equipe dei medici e sanitari che avranno il compito di somministrare i vaccini anti-Covid secondo le priorità indicate dal Piano Vaccinale Nazionale. Il Presidente del Consiglio regionale, Giovanni Arruzzolo, esorta la comunità calabresa ad aderire a una scelta di etica sociale e civile con consapevolezza e fiducia, afferma i cittadini che partecipano alla campagna vaccinale per guardare al futuro con una prospettiva di serenità. Il vaccino è uno strumento formidabile che non lascia spazio ad ignoranze, pregiudizi e soprattutto permette di tutelare la nostra salute e quella di chi sta attorno a noi. Il Presidente della provincia e Sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, risultato positivo al Covid-19 a darne la notizia lo stesso interessato sul suo profilo Facebook, anzi sul profilo Facebook del Comune. Solano ha riferito a arrivare appreso l'esito del tampone nella serata di ieri dopo essersi sottoposto poco prima al test. Solano nel pomeriggio di ieri aveva preso parte a un vertice in prefettura per fare il punto sulle condizioni della statale 18 minacciata dalla presenza di un masso e da uno smottamento. Vertice al quale erano presenti numerose figure istituzionali che adesso sono tutte in quarantena. Il Prefetto Francesco Zito, il Sindaco di Vibbo Maria Limardo, il Tenente dei Carabinieri Luca Domizi, il Segretario Generale del Comune Domenico Libero Scuglia, disponenti dell'ANAS della Polizia Stradale, nonché personale della Prefettura e diversi giornalisti. E ora i numeri della pandemia nella nostra regione continua ad essere stabile l'andamento dei nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 177 nuovi positivi e purtroppo 4 le vittime. Una stabilità che ha fatto ulteriormente scendere l'indice RT che si assesta a 0,76 come riferito dal Comitato Tecnico Scientifico. Il maggior numero di case si registra nella provincia di Reggio con un più 63 seguita da quella di Vibbo più 61, Cosenza più 22, Catanzaro più 20 e Crotone più 6, effettuati 564.151 tamponi su 533.084 soggetti. E ora la pagina della cronaca. Tre calabresi sono stati arrestati a Bologna, avevano progettato una rapina facendo irruzioni in un'abitazione. I tre si spacciavano per poliziotti e finanzieri con tanto di pettorine e distintivi. Il piano era di entrare in casa indossando pettorine e distintivi di polizia e guardia di finanza simulando una perquisizione per poi immobilizzare una coppia di coniugi e rapinarli. L'assalto è stato sventato dagli investigatori della squadra mobile di Bologna che hanno arrestato tre persone tutti calabresi già con precedenti un 42enne di Reggio Calabria un 45enne di Crotone e un 29enne di Soverato. Sono stati bloccati lunedì mattina nei pressi di un condominio in zona Fossolo dal quale si erano da poco allontanati. Erano in possesso di pettorine e placche metalliche con loghi e scritte di pulizia e finanza oltre a cappucci guanti fascette in plastica e un rotolo di nastro adesivo. Con sé avevano anche tre fogli con falsa intestazione al logo della Procura della Repubblica di Bologna che riproducevano fedelmente un decreto di perquisizione e di sequestro. Uno dei documenti era compilato a mano con i dati di una coppia di coniugi residenti nello stabile dal quale erano stati visti allontanarsi pochi minuti prima di essere fermati dalla polizia. Le successive indagini hanno permesso di accertare che nei giorni precedenti la collaboratrice domestica della stessa coppia in due occasioni aveva sentito bussare alla porta tre soggetti che si erano spacciati per finanzieri. La donna non li aveva fatti entrare spiegando di aver avuto queste indicazioni dai proprietari e il tentativo dei malviventi non era andato a buon fine. I tre sono stati arrestati per il possesso di segni distintivi contraffatti e denunciati per tentata rapina aggravata in concorso. Arresti convalidati dal GIP che ha disposto solo per uno dei tre il carcere un altro è andato ai domiciliari e per il terzo è stato disposto un obbligo di firma. Ha scelto il rito abbreviato il senatore Marco Siclari di Forza Italia imputato nel maxiprocesso Eifemos contro le cosche di Indrangheta di Santo Femmio e da Spromonte il parlamentare accusato di scambio elettorale politico mafioso stando all'inchiesta coordinata dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri dall'aggiunto Gaetano Paci e dal sostituto della DDA Giulia Pantano Siclari sarebbe stato appoggiato dalla Cosca Alvaro alle elezioni politiche del 2018 Siclari è scritto nel capo di imputazione accettava a mezzo dell'intermediario Giuseppe Antonio Galletta la promessa di procurare voti da parte di Domenico Laurendi appartenente alla locale di Indrangheta di Santo Femmio della famiglia mafiosa Alvaro ha picchiato in più occasioni i genitori per estorcere loro poche centinaia di euro i carabinieri della compagnia di Rogliano hanno eseguito nei confronti di un 33enne noto per precedenti di violenza contro l'ex moglie la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Cosenza a rompere il silenzio di questo stato di cose è stato il padre del 33enne che senza denunciare però il figlio ha raccontato ai carabinieri le vessazioni di cui la coppia è stata vittima e consentendo così di ricostruire diversi episodi di minaccia aggressioni verbali fisiche messe in atto per estorcere poche centinaia di euro i militari hanno potuto così raccogliere indizi di colpevolezza a carico del giovane che adesso per disposizione del tribunale di Cosenza dovrà risiedere fuori dai confini del comune di Rogliano e non potrà avvicinarsi ai genitori a meno di 500 metri di distanza un sequestro di oltre un milione di euro è stato eseguito su input della procura di Caranzaro nei confronti di appartenenti alla cosca trapasso di Cutro vediamo nove fabbricati nel comune di Cutro una ditta operante nel settore agricolo quote di una società di commercializzazione di carburante a Cropani due autovetture diversi rapporti bancari e finanziari valgono oltre un milione e duecentomila euro i beni che il nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanze di Catanzaro al comando del colonnello Carmine Virno ha sequestrato a Giovanni Trapasso e i figli Leonardo e Tommaso considerati al vertice della famiglia di Indrangheta di Cutro e gemone sul territorio di confine tra la provincia di Catanzaro e quella di Crotone colpita nel novembre del 2016 dall'operazione Borderland coordinata dalla direzione distrettuale antimafia dall'indagine era emerso che l'organizzazione dei Trapasso che operava in stretta connessione con le cosche dei grandi aracri di Cutro e dei farao Marincola di Ciron Marina e vantava solidi rapporti con le più influenti famiglie di Indrangheta della regione era particolarmente attiva nel settore delle estorsioni nei confronti di numerosi imprenditori dell'Alto Ionio Catanzarese della provincia crotonese che in alcuni casi venivano di fatto espropriati dei beni strumentali delle aziende dei beni personali e familiari al termine dei procedimenti giudiziari sono stati condannati a pesanti pene detentive perché ritenuti colpevoli di associazione mafiosa estorsione possesso di armi e altri reati mentre le indagini patrimoniali condotte dagli investigatori del GICO delle Fiamme Giale di Catanzaro hanno consentito di ricostruire i loro ingenti patrimoni risultati sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati portando al provvedimento di sequestro emesso dal tribunale in seguito alla richiesta firmata dal procuratore Nicola Gratteri dall'aggiunto Vincenzo Capomolla e dai sostituti Veronica Calcagno e Chiara Bonfadini La Corte di Cassazione ha messo fine ha messo la parola fine alla vicenda dell'incompatibilità con la carica di sindaco di Gianni Papasso per i giudici della Suprema Corte dunque ha dichiarato inammissibile ricorso presentato dall'Avvocatura di Stato e ha condannato ricorrente al rimborso delle spese processali del giudizio di legittimità il sindaco di Cassano che vediamo in questa immagine di repertoria è dunque candidabile dopo il tribunale di Castrovilleri e la Corte di Appello di Catanzaro ora anche la Corte di Cassazione ha certificato che non sono stato responsabile dello scioglimento del Consiglio Comunale di Cassano all'Oionio che continua a ritenere un atto di gravissima ingiustizia per Cassano e i suoi cittadini ha detto il sindaco Papasso Cambiamo argomento ristrutturare casa oggi è più semplice cogliendo le opportunità offerte dal Superbonus 110% ma bisogna affidarsi a società serie e competenti con questo servizio vi presentiamo Aurora Innovation di Crotone il Superbonus 110% è un'occasione unica non solo per riqualificare la casa soprattutto attraverso il condominio ma anche per rigenerare le città è una grande opportunità per chi oggi vuole ristrutturare poiché ha la possibilità di cedere immediatamente in fattura il 110% dell'importo lavori senza alcune sborso o anticipo di danaro in tanti stanno guardando alla possibilità di farlo è ovvio che bisogna rivolgersi a società e professionisti del settore a Crotone opera Aurora Innovation un'azienda giovane e dinamica che lavora nel mercato delle energie rinnovabili e nel settore della depurazione guidata da Emanuele Drago è in realtà composta da un team con una forte esperienza nei vari settori intrapresi che ha già realizzato e gestito nel corso degli anni più di 400 impianti tra solari termici pompe di calore generatori a biomassa ed impianti fotovoltaici con potenze tra i 3 e i 700 kilowatt comprendendo anche lo sviluppo delle pratiche connesse cosa si può fare nel concreto? nel concreto noi riusciamo a riqualificare interamente una villetta o un condominio con attività tecnologiche quali l'installazione di fotovoltaico colonnine elettriche batterie solare termico pompe di calore certificando questo tipo di attività aumentando la classe energetica di ben due posizioni o addirittura la migliore che ci possa essere la nostra forza non è solo quella là di poter intraprendere attività da un certo da una cubatura economica in poi quindi ci basiamo anche su piccole commesse invece per quanto concerne la tempistica di avvio dei cantieri per quanto riguarda le tempistiche parliamo di ovviamente se la pratica è conforme a tutti i crismi urbanistici in 15 giorni riusciamo ad arrivare all'accettazione del contratto ecobonus da un lato si risparmia dall'altro si rispetta l'ambiente è anche un progetto che è dedicato al risparmio di CO2 quindi compensiamo anche tutte quelle che sono le emissioni di CO2 con questo tipo di attività oltre a creare un valore di tipo ambientale mi piace molto questo progetto perché creiamo un valore di tipo economico sociale Aurora Innovation collabora attivamente con la società A0CO2 una realtà importante di livello nazionale che è di proprietà di lega ambiente e del Kyoto Club A0CO2 è un general contractor che offre il servizio di sconto in fattura ovvero realizza le opere di super bonus a costo zero per il cliente Che tipo di servizio offrite ai clienti? Noi offriamo un servizio diciamo chiavi in mano ovvero offriamo il costo zero al cliente senza nessun costo ci occupiamo della verifica di ammissibilità al meccanismo del super bonus ci occupiamo di servizi professionali ci occupiamo di realizzare le opere dall'inizio alla fine fino alla fine ai lavori e anche dei servizi del commercialista tipici del commercialista ovvero visto di conformità e trasferimento del credito fiscale Vi avvalete di valenti professionisti Oggi qui lavoriamo con la migliore azienda che si chiama Aurora Innovation la migliore azienda che si occupa di efficienza energetica in tutta la Calabria con tantissime realizzazioni già fatte negli anni passati anche con A0CO2 abbiamo circa 500 interventi realizzati assieme ad Aurora Innovation Gli esami di maturità inizieranno il prossimo 16 giugno l'esame prevede un colloquio orale a partire dalla presentazione di un elaborato che sarà assegnato dai consigli di classe l'elaborato riguarderà le discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi che potranno essere integrate con apporti di altre discipline esperienze relativa ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento a competenze individuali presenti nel curriculum dello studente la missione all'esame sarà deliberata dal consiglio di classe la partecipazione alle prove invalsi che comunque si terranno non sarà requisito di accesso e invece noi andiamo a vedere a capire cosa ci dobbiamo aspettare per quanto riguarda le previsioni meteo Buona giornata da Nico Schiodetto la previsione per sabato che vede un campo di alta pressione è robusto a interessare l'Europa centrale e poi anche tutti i settori più ad est Europa orientale con stabilità e condizioni prevalente appunto bel tempo mentre più ad ovest quindi verso la Francia la penisola iberica le isole britanniche ed il Marocco perturbazioni con piogge e clima ventoso andiamo a vedere gli sviluppi sull'Italia perché sarà una giornata abbastanza bella al centro-sud segnaliamo ancora in pianura padana e poi Liguria Toscana delle nubi medio-basse a coprire a tratti il cielo a renderlo un po' grigio, sporco per le correnti ancora in quota da sud o sud-oveste nel dettaglio mappa delle precipitazioni perché osserviamo ancora delle deboli piogge a bagnare la Liguria tra Savona, Genova e la Spezia altrove invece quasi nessun effetto in sintesi la mappa dell'Italia con questa copertura nuvolosa irregolare in pianura padana e poi Liguria parte della Toscana più alto il rischio di precipitazioni dicevo sulla Liguria centrale invece sulle restanti zone del centro-sud a parte delle foschie delle nubi basse al mattino poi splenderà un po' di sole addirittura raggiungeremo diffusamente i 15-17 gradi come valori diurni tutti i dettagli precisi ulteriori scaricando l'app di Trapi Meteo aggiornamento per l'edizione delle 22 e 30 però restate qui sul 18 noi ci vediamo dopo grazie a tutti